Signori, benvenuti in un nuovo episodio di Staminchie. Io sono Sly e questo è Dalton, che mi accompagna in ogni avventura. Signori, intanto volevo mostrarvi più o meno casa mia, che adesso è con... No, mi sono dimenticato quattro pareti, porca puttana. Vabbè, guardate l'interno di casa mia, pitturata, molto più bella in ogni aspetto. Guarda che stile, no, raga, dai, dai, guarda che stile, dai. Allora, attualmente siamo proprio in carenza di ferro. Molesto ne ha preso un bel po' che sta guagliando nelle fornaci, ma come vedete non basta mai quel relativo. Sono semplicemente io coglione che non l'ho spostato e quindi, secondo questa logica, non basterà mai. Adesso Molesto è qua morto a terra. Ecco, io immaginavo, io prendo sempre i proiettili da lui perché lui ne ha a miliardi. Allora, vorrei andare a farmare un po' di risorse. Intanto vi faccio vedere alcuni degli animali presi, purtroppo in vostra assenza, tipo il gufo, anche se comunque penso che ci sarà qualche episodio dove vedremo appunto di catturarli anche in registrazione. Perché comunque serve fare le coppie per farli, insomma, per farli nascere, farli nascere sempre più forti. Che ha di bordello che fai? In vostra assenza mi sono sistemato gli animali, come vedete qui ho messo tutti gli animali da farming, quindi abbiamo il liguano d'onte per i semi, il drago spinoso che raccoglie legno, se non lo sapete. E in più ha una sella tipo l'argentavis, puoi craftare come un banco da lavoro. Abbiamo l'anchilosauro per il ferro, triceratopo per la paglia, stegosauro sempre per il legno. Questi non servono un cazzo, ma è sempre bello averli, papera malefica. E qua abbiamo quelli che abbiamo preso nello scorso episodio, i due magma, mamma, nagma, vabbè, quelli. Qua abbiamo il quesal, che l'abbiamo preso sempre, in due episodi fa circa. Le viverne, Molesto è andato a prenderne un bel po' di viverne. Queste qui sono anche frutto di accoppiamenti, quindi abbiamo viverne elettriche, viverne acide, viverne di ghiaccio, viverne di fuoco, abbiamo tutte le viverne in teoria. Questi sono alcuni animali che ho preso, ho preso una tigre, questa qui l'ha presa Molesto, lo scorpione l'ho preso io, il coccodrillo l'ho preso io, ne vorrei uno più forte. Ho preso la ranocchia, ho preso due barionici, ho un orso, un megaterio, un altro stronzo qua, questo qui è uno dei primi, diciamo, che ho preso. Gli opterodatelli sono messi tutti lì, abbiamo quattro opterodatelli per spostarsi velocemente. L'allosauro, che è una bestia, è il mio T-Rex, livello 310. Non è più Diego, ho trovato questo bestione, livello 162, che adesso è livellato fino a questo livello che vedete. Ovviamente, in onore di chi mi ha detto prendi un animale forte e chiamalo Diego, si chiamerà Diego di nuovo. Vorrei andare a farmare ferro. Per andare a farmare ferro ho bisogno di un animale in particolare. Ci prendiamo l'argentavis, perfetto, abbiamo l'argentavis a 14 livello, io glieli butto tutti sul peso, deve trasportare quanto più peso possibile. Ci prendiamo il nostro anchilosauro e ci dirigiamo verso una zona di ferro, più o meno la zona di ferro si trova in quelle montagne lì. Sono chilometri, quindi ci vediamo arrivato lì. Ok, per voi sono passati pochi istanti, mentre per me è passato circa nove mesi. Sono arrivato in queste zone qui e finalmente ho del ferro davanti. In teoria, se ci abbassiamo così, il nostro anchilosauro dovrebbe raccoglierlo in automatico. Sì, super automatico, come vedete, di un'efficienza incredibile. Eh, ma allora sei stronzo, perdonami. Vabbè, è proprio stronzo. Fortunatamente, dato che il ferro su questa mappa è praticamente minimo, o almeno quello per quanto ne so, ho messo lo spawn delle risorse molto veloce, in modo da evitare questi problemi qui, così il tempo che mi allontano un pochino dovrebbe respawnare di nuovo quello dietro di me. Quindi basta trovare una zona e dovremmo essere a posto. Perfetto, a lui mille di ferro pesano 75 kg, sta cosa è imbarazzante. Ovviamente la pietra la buttiamo, è sempre meglio risparmiare spazio. Ci allontaniamo un pochino e poi ritorniamo indietro. Ecco, già questo qui è spawnato di nuovo, è un istante, è questione di istante. Allora, abbiamo circa 2000 di... già questi 2000 significano 1000 lingotti. Non è male come risultato, ma potremmo ancora fare di più, già che siamo qua ci fulliamo per bene. Va bene, dai, abbiamo quasi 4000 di ferro, io direi che può andare, minchia, 220 di livello sta minchia. Perfetto, in teoria dovremmo poterlo prendere con l'argentavis, perfetto. E come vedete abbiamo un risparmio di peso enorme. Sarebbe molto più bello se trovassimo altro ferro e soprattutto lui decide di raccoglierlo in auto. Oh, cristalli, questo è buono, i cristalli mi servono. I cristalli, lui non ha la riduzione del peso sui cristalli, però, non ha la riduzione del peso, però ha un'altra cosetta interessante. Ovvero che se io prendo questi cristalli... Madonna, porco di quel cà. Quindi i cristalli li diamo all'argentavis. Vedete, a me pesano 478 kg all'argentavis, la metà. Prendiamo altri e in teoria dovremmo farci. Mamma mia, io non voglio pensare al ritorno, perché veramente... Troppo sì, ste risorse ci sono, ma sono lontani, cazzo. L'unico vantaggio è che basta che spawnano un po', possiamo comunque riprenderli subito. Ok, abbiamo farmato abbastanza. Abbiamo circa 4000 di ferro e più di 1000 di cristalli. Vediamo se posso prendere l'anchilosauro senza esplodere. Perfetto, siamo giusto nei limiti. E adesso ci dirigiamo verso casa. Ci vediamo fra nove mesi. Ok, mamma mia, raga. Sette mesi, porca puttana. Dammi qua, dammi i cristalli. Ah no, 1500 cristalli. Allora dai, 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 c'è andata di lusso. E quindi, ricapitolando, l'argentavis ha ancora dei cristalli, altri 500. Eccolo qua. Mentre lui è carico di ferro. Arriverò. Facendo così su arc, più vi mantenete puliti, meno bestemmiate, fidatevi. Il trucco sta nella pulizia. Più puliti siete e meno bestemmie tirate. 1500 di carbonella, ovvero 1500 di polvere da sparo. Che sarà usata per craftare proiettili. Tra l'altro ho trovato pure una pistola viola. Cioè, viola nel senso di rarità. Che me l'ha droppato un alfa, un carnosauro. Il ferro l'abbiamo farmato. Adesso manca soltanto una roba da fare. La caccia. Ebbene sì, la caccia. Ci portiamo dietro un paio di capsule. Ci prendiamo il nostro animale da viaggio. Ed è soltanto l'insostituibile grifone. Il nostro carissimo Aladin. Che tra l'altro, guardate che livello è. 259. Vabbè, è stato... Oddio, devo ancora svuotarlo. Avevo trovato delle robe su di lui. Tieni soltanto la carne. Avevo trovato un sacco di roba su... Cioè, sono andato nel deserto. E ho ucciso gli avvoltoi. Per procurare un pochino di carne marcia. Ho procurato 684 di questa polvere qui. Che mi serve un sacco a me. Per ripararmi... Per ripararmi l'armatura ascendente che ho. Che quella lì mi metti. Poi un mare di pelle. Chittina, manco a parlarne. Perfetto. Ci andiamo a fare una bella spedizione nella neve. Perché è lì che voglio procurare alcuni animali. Di cui dovrei già avere le selle trovate nelle ceste. Stiamo parlando del rinoceronte lanioso. Il mammut. Se ci riesce facciamo anche il colpo con lo yutiranno. Anche se quello lì è un po' più duro da fare. Però lo yutiranno, per esempio, è un animale. Che se vogliamo fare le boss fight è molto utile avere. Anche il cinghiale. Il cinghiale non l'ho mai preso, tipo. Guardate quanto è veloce il grifone, ragazzi. Ah, peccato che è solo un progetto. Il falcetto ascendente era buono. Perfetto, siamo nella neve. Oddio, c'è un altro di quel coso. Perfetto, davanti a noi abbiamo già dei rinoceronti. 145 e 90. Allora, questo è mio. Adesso, quale cazzo è? Madonna, lui. Dovrebbe avere un dardo in bocca. Eh, non vedo qual è. Ma è 140. Vabbè, ma li posso prendere entrambi, questi cazzi, no? Perfetto. Quando accadono queste cose su Ark, potete soltanto godere. Significa che tutto il mondo, no? Si è messo dalla vostra parte. Fatto uno. Guarda, guarda che deve mangiare mentre sto sparando. Ma porca puttana. Quel T-Rex. Voi siete convinti che lui non romperà i coglioni, no? Eh, vi sbagliate. Il modo per fare tanto danno con il grifone è proprio questo. Però questo T-Rex è a livello alto per resistere a questi colpi così. Mamma mia, quanto è veloce. Come potete vedere, raga. Cioè, non servono parole. I due bestioni sono qui. Devo semplicemente scendere senza morire, raccogliere due bacche e dargliele. E già ci siamo portati a casa due rinoceronti di cui ancora non so bene il livello. Ok, adesso senza morire dovremmo ritornare indietro. E niente, vedi. Capisci che non si può fare una roba del genere? Ma porca puttana. Madonna. Guardalo. Ah, io sto facendo bei colpi, eh. Resiste. Dai, che mi si stanno svegliando questi qui. Devi morire, porca puttana. E sarà un livello 30 miliardi. Non è possibile. Niente. Questa è la mia vita. Dai, c'è un altro T-Rex. Ma è una presa per il culo. Dai, dai, mettili le bacche per cortesia. Che questi non si svegliano più. Che, che, meno male che sono bastate. Che c'è l'addomesticamento per 9 milioni. Prego, ti prego, veloci, veloci. Allora, intanto questa qui è una femmina a livello 217. Un ball ready. Se questa qui è casualmente un maschio. No, peccato, è un'altra femmina. Aspetta che mi metto di nuovo questo. Ho due femmine. E a te aumento... Ma sì, i danni. Devi spaccare tutto, diglielo. I rinoceronti ce li abbiamo. Le stemmie sicuramente. Ma ce l'abbiamo. Oh, lì c'è un altro megaterio. Sarebbe bello prenderne uno più forte, dicevano. Allora, non ho ben capito cosa fa quest'animale. Per come ho capito, dovrebbe avere un bonus incredibile verso gli insetti. Chi ha l'orso forte mi piacerebbe pure. Eh, però 100, potrei trovarlo più forte. Allora, c'è una cosa. Quel megaterio è sicuramente a livello alto. Quindi ce lo prendiamo. E non vi chiedete come cazzo ho fatto a mancare. Provo a resistere ai colpi. Dai, tanto ho 10k di salute. Ho 4 dardi e ti ho tirato. Eh, non vorrei dire. E lui in teoria mangia bacche. Vabbè, ora cade. Non penso... Ce ne voglio un altro. Inseguiamolo un po'. No, si sta addentrando troppo. Rompe i coglioni poi. Perfetto, raccogliamo delle bacche per il megaterio. Ah, questa spedizione sta andando bene. Come vedete, molte volte magari vi evito una spedizione a caccia di animali. Proprio per questo motivo, perché avendo un grifone e un fucile ascendente, così, come vedete, è molto semplice fare questa roba. E parliamo di animali di livello alto. Tuttavia, però, è giusto farvelo vedere, perché magari uno si immagina, minchia, come cazzo fai fuori live a prenderti 20... Cioè, fuori registrazione a prenderti 20.000 animali. E così è una dimostrazione un pochino di come faccio. Abbiamo preso due rinoceronti, che non sono semplici. Abbiamo affrontato un T-Rex, 20.000 animali, tutti livello alto, per farvi capire un grifone cosa riesce a fare. Infatti, il mio consiglio, c'è un vicinato poco amichevole. Il mio consiglio, infatti, appena potete, addomesticatevi un grifone. Anche perché non ha bisogno di sella e quindi non avete bisogno di un livello specifico per poterlo prendere. Vi serve soltanto la giusta attrezzatura per buttarlo giù. E come cazzo ti chiami? Cos'è, ti alzi? Ah, è lui, pensavo fosse un cespuglio. Minchia, lì c'è un allo, sa, mamma mia, guarda come ci muoio. Se questo non si sbriga, io ve lo dico, se non si sbriga ad alzarsi è un casino, eh. Perché già c'è quello lì che mi sta quasi puntando, speriamo soltanto che di livello basso. Che poi il bastardo non ha un cazzo di vigore. Però giustamente, essendo selvato, è niente, niente. Eh, sì, scontro tra titane. Non ci credo. Mamma mia. Il grifone quando va in impicchiata ha un aumento dei danni spaventoso. Come vedete l'ho one shottato. Oh, ma buongiorno. Sei alzato? Vieni qua. C'è un carno. Senti. Uccidilo per cortesia. Dimostrati utile, vediamo cosa sai fare. E niente, sei lento in culo. Guarda, guarda, non se la prende con lui. Scassalo. Però, sei un valido soldato. Adesso dai, torniamo a casa. Tanti è un maschio. Se non sbaglio, quello che ho a casa è una femmina. Non è un suono ambientale. C'è uno yutiranno nei paraggi. E con i paraggi, intendo sotto di me, yutiranno livello 55. Quindi non me ne frega un cazzo. Bene, prossimo animale che sarebbe molto bello prendere sarebbe un mammut. Eccolo. Piccolo mammut. Tu che livello sei? Non mi serve. Ma buon tonno. Lei come sta? Che livello mi è? 85. Posso trovare di meglio. Ti colpisco solo perché scassi i coglioni di solito. Allora, siamo in una zona... Cinghiali. Mmm. Che stracazzo sono qua? Vedete che in questa zona non ci sono mai andato. A livello di approfondimento. Magari possiamo trovare qualche posto buono. Allora, ho trovato un bellissimo fiume. Madonna. Madonna, ti prego. Non mi lasciare qui, ti prego. Ti prego. Bravo Aladdin, io lo so che di te mi posso fidare. Però non ti permettere più a lasciarmi così in preda al panico. Voglio vedere cosa cazzo succede se seguo questo fiume. Perché? Ma guarda che pianta strana. Ma chissà se mi dai tipo il seme X lì. Porca puttana. Raptor di merda. Può essere che ti dai il pianta special lì. Pensavo fosse una pianta speciale. Invece niente. Non ho ancora trovato tipo qualche luogo strano. Tipo un dungeon. Una grotta. Qualcosa dove entrare. Ancora niente di tutto ciò. È molto strano che non ci sia... Minchia. Cosa vedo nei miei occhi? C'è tipo un faro. Ah, mi ci dirigo subito. Sono un coglione. Mamma mia di quanto l'ho sfiorato. Iuppi. Faro dolce faro. Allora, secondo i miei calcoli. Che cazzo è sta roba? Guarda qua c'è tutta la scogliera tattica. Allora, che cazzo c'è in questo faro? Oh, guarda si entra pure. Bene. Allora Grifone, se dovessi morire avvisa tu. Allora, non abbiamo un cazzo. Non abbiamo la luce. Ah no, una torcia ce l'abbiamo. Ci sono delle casse, però non si rompono. Porca puttana, raga. Mi sa che c'è un dungeon qua. Porca puttana. Questo lo esploriamo nel prossimo episodio, ragazzuoli. C'è un dungeon. Allora, raga. Io faccio una roba. Vado a casa. Prendo il fucile. Mi creo due munizioni. Anzi, trattato prima di andare a casa. Prendo della selce, che è quella che mi serve. Non si rompono. Effetto. Prendo della selce prima di andare a casa. Noi ci vediamo nel prossimo episodio che preparo le munizioni e vado lì col fucile. Perché se no, magari ci portiamo dietro un animale adatto. Tipo, non lo so, un lupo. Magari me lo porto col grifone se posso. Vediamo. Vedo cosa posso fare. Tanto trovare sto posto non è difficile. Siamo praticamente in questo angolo e c'è un cazzo di farlo. Dubito che sia difficile. Va bene, signori. Allora ci vediamo nel prossimo episodio con Ark. Ciao, bene mia. Allora ci vediamo nel prossimo episodio.